...fragranze fresh, lavanda oppure il neutro. Stiamo parlando di S2O, stiamo parlando di salviette speciali con una formula innovativa detergente. Dimentichiamoci tutti i nostri detersivi, dimentichiamoci tutti i detersivi in polvere o liquidi perché basta una di queste salviette per pulire il nostro bucato. Se fate diciamo sette lavaggi, diciamo uno due lavaggi per sette giorni, dura un anno una confezione di questo genere. Oltre 47 milioni di carichi di bucato venduti negli Stati Uniti. S2O. Ma abbiamo qui con noi l'inventore, la persona che ha creato questa proposta. Akos, questa persona è qui, non di fianco a me, ma la vediamo fra un attimo ed è un piacere per me presentarvelo. Lui è un chimico ed è l'inventore di questa grande proposta. Andremo a scoprirla insieme. Lui sta sporcando in questo momento e guardate che sta sporcando veramente in maniera pesante e di là in lavanderia. Le immagini sono significative e questo è il gesto che fate voi, sempre, continuamente. Guardate, ho messo tutto in lavatrice, ho sporcato tutto senza mescolare, senza misurare niente, lo mettiamo in lavatrice. Semplicissimo, ora facciamo il test con S2O. Dai, vieni qui con noi, vieni Akos, che così siamo insieme. Ricordo, 100 di questi in un flacone di questo. Dimentichiamoci tutti i vostri vecchi detersivi, quelli in polvere, quelli liquidi. Guardate il gesto da fare, buttare semplicemente uno di questi fazzolettini, di queste salviettine. Cominciamo già a pensare al grande risparmio economico, perché il prezzo di 18,15 euro vale solo per 24 ore. È il nostro Today Special Value. Akos, adesso stiamo vedendo un piccolo filmato, ma lui è qui con me, perché adesso noi vi dimostreremo come funziona questa formula innovativa. Lui è un chimico, è un inventore e quindi ve lo presento, anzi lo saluto perché lo conosco, oggi l'ho conosciuto anch'io, queste immagini sono quelle di sempre. Ecco, ecco. Allora, le donne italiane pendono le tue labbra per sapere, perché le donne italiane amano la pulizia. Eh, vogliono pulire il loro bucato, questa è una cosa nuova, rivoluzionaria. Here's the problem, Franco. People are using this, some people are using this, and of course you have fabric softeners, pre-treaters, stain removers, and the next time you know it, you have everything looks like this in your washing machine. Or you can replace all of this, everything is replaced, no measuring, no mixing, just with one S2O laundry sheet. Sai qual è il problema, Franco? È che le donne vogliono questo, poi alcune hanno quest'altro, poi c'è la morbidente, poi c'è lo smacchiante, poi c'è la candeggina, mentre noi possiamo sostituire tutto questo con una sola salvietta di S2O e non abbiamo bisogno di misurare, di miscelare niente. Allora, tutto questo dimentichiamoci, lo dimentichiamoci di fare bodybuilding tutte le volte che andiamo a prendere i nostri detersivi, una semplice salviettina, ma c'è tanta diffidenza, c'è tanto scetticismo, adesso lo vediamo, sicuramente lui è l'inventore ed è una grande fortuna. Hai fatto partire la lavatrice, la stiamo vedendo nel riquadro, quindi poi andremo a vedere, alla fine andremo a vedere questa pulizia, se è veramente così incisiva. Io però posso dire una cosa, l'ho fatto provare mia moglie e il capo famiglia, che lei ha detto funziona, i capi sono profumatissimi e ben puliti, questo lo indico per inciso perché abbiamo avuto modo di sperimentarlo a casa, questo lo dico per le nostre amiche. Franco, come on over here, come on with me, because you know what happens, maybe you're thinking to yourself, does it really work, I'm gonna do a side by side test. Bene, vieni con me Franco, adesso magari vi chiederete se funzionerà o meno, adesso lo facciamo parallelamente da una parte e dall'altra. Now I'm gonna take regular laundry soap on this side and I'm gonna pour that here, I'm gonna take used motor oil, because you know why oil, because we have Caesar salad dressing and we have oil in Greece, I'm gonna fire this up and let this start to go. Da questa parte mettiamo il classico detersivo e visto ho messo un po' di liquido, detersivo tradizionale e ho sporcato questo pezzetto con dell'olio usato, olio perché facciamo l'insalata ad esempio e quindi è normale, vediamo che cosa succede. On the other side, no measuring, no mixing, I'm gonna take one S2O laundry sheet, we're gonna drop it in there, more used motor oil, on this yellow sheet, I'm gonna fire this one up and we're gonna put Franco the side by side test, we're gonna compare S2O to what maybe you're using at home. Mentre dall'altra parte vedete come non devo misurare niente, non devo miscelare niente, metto semplicemente una salvietta di S2O, la sporco ancora di più con dell'olio e vediamo parallelamente che cosa succede, facciamo ora il test. Questi sono test veri, noi siamo in diretta, ve lo voglio sempre ricordare, è un piacere per me avere qui questo inventore, questo chimico ed è giusto di sottolineare qualcosa di rivoluzionario, di innovativo e siamo oggi a lanciarlo qui sul mercato, quindi il mercato americano l'ha già raccolto molto bene e ricordo oltre 47 milioni di lanci di bucato sono stati fatti con S2O, 100 salviette che durano praticamente un anno se fate il bucato una o due volte alla settimana. All right, let's do the side by side comparison. Franco, come here, help me out. So this one here, you open this up, take a look at this, oil and water, do not mix, look, nothing, didn't work. Vediamo, facciamo un confronto parallelo, vediamo come l'olio e l'acqua non si miscelano e vediamo che il risultato è assolutamente nullo. Look at this one, S2O, laundry sheets work, look, the oil is gone, the grease is gone, Franco, this is a great comparison, you can see side by side how well it works. Guarda invece l'S2O, guarda come ha funzionato, non c'è grasso, non c'è olio e questo non è il modo migliore per capire se funziona veramente o meno. lui ha fatto una risata americana, io faccio una risata italiana. che meraviglia davvero, fantastico. Frank, watch this, one S2O laundry sheet, I'm going to put it in the bowl, I want you to watch this from the front, okay, right here. I'm going to take this yellow cloth and I'm going to make a lot of oil, look at this, Franco, look, look, look. I'm going to a lot of oil like this, look, I'm going to soak it in oil, now that is one big mess. Now watch this from the front, watch the science of clean. Are you ready for this, Franco? Watch, 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 because what you're going to see is crazy stuff, watch. You are going to see the oil start to tear, look, 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 the oil is breaking off the cloth, like this, like this. All the oil, all the grease, all the hair dye, all the nail polish, the success is right here. Guarda, facciamo un'altra prova, guarda, ho ripreso una salvietta di S2O, lo mettiamo adesso, lo guardiamo dal davanti, lo mettiamo nella vasca dei pesci, guarda, riprendo lo impregno di olio ancora di più di prima e guarda come funziona la scienza del pulito, rimuove esattamente tutto. A questo non sei un inventore su, sei un mago, una magia, è S2O che funziona. E voi lo potete provare ovviamente per 30 giorni, ma cosa bisogna fare? Una semplice telefonata, 840-88-44-00 per averlo a casa. 100 salviette, le provate, 3 fragranze, fresh, il neutro o quello col profumo di lavanda. Io ricordo che l'ho già testato a casa e lascia un profumo meraviglioso, è qui da vedere quello che è successo. Come here, come here, come here. Ah, vengo, vengo, vieni con te. Here's the problem. Oh, vediamo il problema. Your white starts looking like this, right? Ice and white. And after you wash it a few times, looks gray, looks dark. Am I right or wrong, right? Qual è il problema? Il problema che abbiamo con il bianco. Quando è nuovo, è questo colore. Dopo un po' che lo laviamo, diventa ingrigito. Nuovo? Eh sì, è vero. Che cosa succede? Che quando laviamo i bianchi, lo sporco si stacca dal tessuto, ma rimane nell'acqua e quindi si rideposita il ciclo successivo. E che cosa ho fatto? Io ho inventato un composto chimico che evita questo effetto del riposizionamento dello sporco. Quindi il bianco sarà più bianco e il luminoso sarà più luminoso. Il bianco è più bianco. Il bianco è più bianco, bravo. Ok, I'm going to prove it. I'm going to prove it. Proviamo, facciamo. Dal vivo, sempre. Allora, io ricordo che il 2D special value lo lanciamo oggi, qualcosa di rivoluzionario e di innovativo, ma negli Stati Uniti è già estremamente conosciuto. Lui sta buttando dello sporco industriale. Bene, adesso lo dimostriamo. Vedi che qui in queste due caraffe ho messo dello sporco industriale, più ci ho aggiunto dell'olio, perché abbiamo sempre olio, grasso, eccetera, nel bucato. E adesso io e te faremo, uno accanto all'altro, il bucato. Bene, bene. Due uomini che fanno il bucato rende felici le donne italiane. Allora, io sono perdente, lo so già. So, you're going to use regular laundry soap and I'm going to use one S2O laundry sheet. Now, Franco, over there there's two t-shirts. You get one, you keep one, you and I will do a load of laundry together. Bene, nel tuo ho messo il classico detersivo, il detersivo tradizionale liquido, mentre nel mio ho messo una salvietta di S2O. E adesso facciamo il bucato con due t-shirt. Allora, niente trucchi, niente inganno, niente trucchi, niente inganno, facciamo lo scambio delle t-shirt, quale vuoi, quale è, quale è la mia, aspetta, oh, quale è destra, resta, right? Ok, 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 così facciamo vedere che erano partite uguali. E beh, guarda che cosa succede, tu lavi qualcosa di sporco, lo sporco rimane nell'acqua e quando tu lavi successivamente lavi nell'acqua sporca. Ok, now what we're going to do is we're going to get rid of the water, so you have to go in there with me, you squish out it, squish it out, squish out the water. Adesso togliamo l'acqua, quindi strizziamo il capo. And then I have a rinse over there, so you can rinse it over here, just like your washing machine does, go on the other side and rinse it out. Come se fosse un normale ciclo della lavatrice. Ma io lo strizzo bene così non c'è il trucco. All right, you ready? Pronto? Franco, you ready? Forza Franco, sei pronto? Dai, 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 ci siamo, ci siamo. Ok, here we go. We are going to reveal, remember, I use laundry soap sheets and you use S2, look at this, I use S2 laundry sheets, you use, look at it, yours is pink, yours is dirty, mine is white, the result is clear. Guarda, il risultato è chiaro, io ho usato una salvietta, il mio è perfettamente bianco, tu no e guarda che rosa. Stati Uniti batte Italia 1 a 0, faccio la radiocronica in diretta, siamo già 1 a 0, bravo, 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 incredibile, è vero, lo sporco su questa è rimasto, sulla sua è andata via, ma chi è? S2O. E va provato, e questo è il mio caldo invito questa sera a provarlo perché è una grande novità. Tre fragranze, fresh, lavanda o neutro, solo 18,15 euro, ma vi devo dare già una notizia che la lavanda è quella che state preferendo. Allora il Today Special Value con questo prezzo eccezionale dura soltanto 24 ore, ma quando c'è da scegliere una fragranza, un gusto, non aspettate, non dite vado a dormire e lo prenderò domani, prendetelo già adesso, avete comunque 30 giorni di tempo poi per provarlo quando lo riceverete a casa. Franco, when you add up all of this, you could be paying a euro, a euro 50, a euro 70 every time you do a load of laundry, or you pay less than 20 cents a load. You could save hundreds of euro a year doing something you're already using, just do that with S2O. Bene, se sommiamo, Franco, tutti questi prodotti magari puoi pagare un euro, un euro 50, un euro 70 per ogni carico, per ogni ciclo di lavaggio, mentre con S2O pagheresti soltanto 20 centesimi, quindi puoi risparmiare centinaia di euro l'anno. Pensate che per tutti questi prodotti noi, se andate a comprarli, abbiamo speso 100 euro, di fatto con il nostro tutorial special value sono 18 euro, se fate uno o due lavaggi a settimana vi dura un anno intero, quindi davvero c'è anche un grande risparmio. E in momenti come questi risparmiare significa essere più felici perché tutta la famiglia ne ha un grande vantaggio, che cosa fare? Semplicemente provarlo, una semplice telefonata lo ricevete a casa e allora anche voi che siete scettici farete il test a casa vostra. Io sono sicuro che piacerà tantissimo questa proposta perché è una proposta che fa anche risparmiare oltre ad essere estremamente efficace. E poi c'è il discorso ecologia, ma ne parliamo, perché non buttiamo più nell'ambiente tutti quei detersivi, quindi buttiamo solo questa salviettina. Dov'è? Dov'è la magica salviettina? Dov'è? 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 Ah, fantastica. Allora, via tutto questo. Cosa ti fai vedere adesso? Franco, ma il tuo detersivo pulisce olio e grasso bene? Come il nostro S2O? Il tuo detersivo tradizionale rende il bianco più bianco e il tessuto luminoso più brillante? Piango, il mio è così, il mio è così, il suo è così. Io piango. E Franco, il tuo detersivo tradizionale ti fa risparmiare centinaia di euro l'anno? Stati Uniti batte Italia 3 a 0 per il momento, siamo sotto, dobbiamo recuperare. In un momento sarà 4 a 0. Siete pronti? Ok, 4 a 0, cappotto facciamo. Chi piace fare il bucato? A nessuno, giusto? Stirare e fare il bucato non piace a nessuno. Perché dobbiamo fare il bucato? Perché Franco ha sempre indosso questi jeans sexy e a lui piace sembrare bello e affascinante. Grazie, per favore. Ho tre paia di jeans. Questi tre jeans li ho comprati nello stesso momento dallo stesso negozio. Eccoli qui. Questi jeans non sono mai stati lavati e vedi che l'etichetta è ancora su. Nuovo, nuovo, nuovo. Questi jeans, same jeans, washed 20... ... ... ... ...